9 tonnellate di sigarette di contrabbando sequestrate e una persona arrestata è il bilancio di un'operazione dei militari del comando provinciale di Reggio Calabria che nel corso di un servizio contro i traffici illeciti hanno individuato un auto articolato che trasportava la merce sequestrata. I finanzieri della compagnia di Villa San Giovanni in particolare hanno sottoposto a un controllo un tir proveniente dalla Spagna che era in procinto di imbarcarsi su un traghetto diretto in Sicilia. Nel corso dell'ispezione sono state rinvenute 45.000 stecche di sigarette prive del sigillo del monopolio di Stato inscatolate e posizionate su 33 pedane in legno. Il carico illecito e l'automezzo sono stati sottoposti a sequestro probatorio. L'autista, un 48enne bulgaro incensurato, è stato arrestato in fragranza di reato per contrabbando e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria che venerdì scorso lo ha processato con rito direttissimo. Il Tribunale di Reggio Calabria ha condannato il cittadino bulgaro alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione è disposto la confisca del carico illecito che, qualora venduto al dettaglio, avrebbe fruttato quasi un milione e mezzo di euro. Adesso le indagini proseguono per cercare di stabilire qual era la destinazione di questo carico in Sicilia, le città dove dovevano arrivare le sigarette di contrabbando.